buongiorno benvenuti a questa video analisi del 13 maggio 2016 video analisi che oramai sapete benissimo come ricevere magicamente adesso apparirà anche la scritta in alto sopra di me come ricevere gratis cliccate su quella scritta così non sto ogni volta a ripetere tutta la storiella l'unica cosa che ci tengo però a dire se venite sul mio sito trovate anche informazioni relative al corso di gruppo 23 30 maggio due sessioni la prima tutte a teoria parlo io la seconda invece interazione con i partecipanti domande e risposte quindi sarà un po come rispiegare una seconda volta come funzionano le strategie anche queste multiday per esempio sul forex come faccio queste video analisi e poi alla fine di tutto i due le due sessioni che saranno video registrate saranno inviate quindi resteranno a vostra disposizione e diventa praticamente un video corso venite sul mio sito e trovate tutte le informazioni in merito a questo video corso vedo intanto un euro che spinge 1 13 e 47 vi ricordo anche che proprio tra una settimana sarò anche dal vivo a rimini all'appuntamento immancabile annuale con l'itf quindi ci sono avrò tre interventi tre conferenze trovate tutte le informazioni sul mio sito anche come registrarvi gratis a questo evento vi invito anche se siete in giro per la fiera e mi riconoscete vi invito a fermarmi prendiamoci insieme un caffè così finalmente ci conosciamo anche di persona perché sto ricevendo molte email che in cui usano lo stesso termine che oramai mi definite uno di famiglia per questo rapporto che si è creato almeno attraverso questi video quotidiano e per me oltre gli apprezzamenti sulla professionalità tutti gli altri ma quando mi definite uno di famiglia per me davvero mi riempite il cuore vi ringrazio tantissimo per questa insomma per questa definizione che usate nei miei confronti veramente diverse persone l'hanno detto mi fa molto molto piacere bene parliamo di forex siamo arrivati alla fine della ottava ricordate quella candela verde dell'euro dollaro che ieri avevo fatto così ho detto facciamo finta di non vederla effettivamente è stata una candela verde che non diceva nulla ha ripreso a marciare a ribasso la nostra moneta nei confronti di quella americana addirittura ha toccato un nuovo minimo di periodo da quando è partita l'inversione da qui con questa candela dello scorso 5 maggio oggi toccato un minimo a 1 13 e 29 non so se riuscite a leggerlo anche nella finestra dati quindi prosegue il trend fino a dove qui è ovvio che si vede che c'è un possibile qui c'è un'area di possibile supporto in area 1 12 e 50 poi si scende qui verso sotto 1 e 09 qui ce ne è uno effettivamente ancora più importante 1075 per poi parlare quello macroscopico è l'area in cui è racchiuso praticamente il cross eur usd da diversi mesi la fascia oramai quella lì la parte alta 1 e 15 la parte bassa 1 e 0 5 mille pips in cui praticamente dal minimo del marzo 2015 è intrappolato la nostra moneta da lì non è più uscito è racchiuso lì dentro in questo trading range come si usa definire tecnicamente quindi resta il trend al ribasso però candela verde sul grafico euro sd questa qui che alla fine non ha detto nulla però attenzione ce n'è una confermata importante dollaro contro franco svizzero candela rossa vedete candela rossa su la resistenza quella 0 97 90 questa qui da dove c'era stata tutta questa discesa fino a supporto 0 95 però salta la correlazione ovvero in questo momento abbiamo un euro dollaro ribasso dollaro franco svizzero al ribasso chi sta blefando perché solitamente non potrebbe non dovrebbe essere così però il nostro aiuto il nostro soccorso e questo lo parlerò anche sarà tema della strategia del corso di gruppo online che tra le altre cose è tra le situazioni sicuramente più interessanti ne ho già parlato in passato qui si è creata una situazione 2 su 3 perché la stessa candela rossa che vediamo qui è apparsa sul grafico eur c h f eccola qui candela rossa sulla resistenza 1 11 1 10 94 dove ho tracciato nel corso spiegherò anche dove tracciare esattamente supporti e resistenze quella situazione lì questa possibile candela rossa perché due su tre perché abbiamo detto l'euro dollaro è al ribasso dollaro franco svizzero è al ribasso almeno graficamente poi non è sicuro non è detto che effettivamente verranno tutti giù l'euro ha già fatto oltre 100 pips di strada dalla resistenza d'euro franco svizzero è freschissima la situazione poi ci sono oggi pomeriggio i dati macroeconomici americani quindi attenzione che succede mettendosi in posizione questo però l'euro franco svizzero è lento a muoversi quindi non dà tante soddisfazioni però voglio giusto spiegare almeno a livello teorico come funziona la strategia del 2 su 3 ipotizzando quindi di entrare in posizione al ribasso sull'euro contro franco svizzero l'euro franco svizzero ovviamente segue in maniera da vicino l'evoluzione dell'euro contro dollaro e del dollaro contro franco svizzero poi dipende bisogna introdurre il concetto di forza relativa in un dato momento magari storico l'euro dollaro è fermo e il dollaro franco svizzero sale l'euro franco svizzero sarà più sensibile ai movimenti del dollaro contro franco svizzero viceversa dollaro franco svizzero fermo e l'euro dollaro viene giù euro chf seguirà più l'euro dollaro quindi forza relativa che va a determinare l'euro franco svizzero se segue più l'euro dollaro o dollaro contro franco svizzero in questo caso dove abbiamo euro dollaro al ribasso graficamente parlando dollaro franco svizzero al ribasso euro contro franco svizzero al ribasso posizionandoci al ribasso sull'euro contro franco svizzero e attenzione non è invito sollecitazione a investimento e solo analisi non è un servizio segnali questo mettendoci al ribasso qui l'euro franco svizzero è una situazione grafica di suo che potrebbe invertire al ribasso candela rossa su una resistenza interessante 1 11 potrebbe venire giù perché l'euro contro il franco l'euro contro dollaro è al ribasso quindi potrebbe seguire un movimento un eventuale movimento al ribasso dell'euro dollaro così come potrebbe anche seguire un movimento più violento del dollaro franco svizzero al ribasso sulla sua resistenza abbiamo tre situazioni su tre resistenze ecco perché due su tre perché dalla sua l'euro franco svizzero ha il fatto di avere di essere su una resistenza quindi una buona possibilità di inversione e la seconda possibilità su tre e che potrebbe venire giù per effetto della correzione dell'euro dollaro o del dollaro franco svizzero dalle rispettive resistenze spero di essere stato chiaro quindi però l'euro franco non si muove cioè lì fermo guardate cioè non dà grandi soddisfazioni in termini insomma di operatività dei movimenti di pips però giusto per spiegare a livello si creano altre volte si è creato sull'euro yen con euro dollaro dollaro yen ed euro è una situazione simile però mi ricordo che eravamo su dei supporti quindi tornando adesso all'analisi c'è ci sono altre novità audi nzd che già si era vista la candela verde non era partita con il piglio giusto rotto il supporto si torna al ribasso perché nei rapporti di forza tra australiano neozelandese c'è un neozelandese vi farò vedere una novità importante l'australiano invece anche contro dollaro c'è stata un'accelerazione al ribasso oggi toccato vedete un nuovo minimo da quando è partita tutta quella correzione dalla resistenza 0 78 torniamo audi nzd rotto il supporto prossimo livello da monitorare 10586 e ve l'ho detto guardate sempre bene il grafico è vero che questa candela verde su supporto però è anche vero che in passato qualche mese fa è andato anche un po più giù 10586 per poi risalire lo aspettiamo lì poi qui se si dovesse formare la candela verde chiameremo supporto 10586 come uso dire io in questi casi neozelandese questa forza del neozelandese andiamo a vedere a questo punto subito nei confronti del dollaro americano il famoso kiwi così come viene definito il cross cambio nzd usd se la piattaforma mi fa la cortesia di aprire il grafico candela verde che anche qui non è che sta partendo proprio bene non è un livello che mi fa impazzire 0 67 e 70 però potrebbe vedremo insomma poi di ieri dicevo le situazioni poco chiare lasciate fuori dal mercato anche perché adesso l'ho fatto vedere già entrando a ribasso audi nzd significa che vi mettete al rialzo di nzd perché audi nzd se scende audi vuol dire che sta salendo nzd quindi se volete posizionarvi al rialzo di neozelandese c'è questa possibilità con audi nzd non solo eur nzd candela rossa sulla resistenza 1 68 e 15 quindi andate a rafforzare la view al ribasso dell'euro vi mettete al rialzo di neozelandese è fantastico il forex è l'unico mercato che offre questo tipo di correlazioni così forti perché l'euro non è quotato solo contro il dollaro ma anche contro il neozelandese ma se volete c'è un'altra opzione gbp nzd dove la sterlina contro dollaro è a ribasso e oggi ha toccato anche un nuovo minimo lo faccio vedere dopo potete quindi scegliere oppure di mettervi rafforzare o aprire adesso una posizione a ribasso di sterlina contro neozelandese vi mettete a rialzo neozelandese quindi quale nzd osd che non era proprio così simpatico quel supporto così carino lo lasciamo stare e offre forex offre altre opportunità quindi è fantastico ho scritto tutto ho fatto tutto sì tutte le novità tutte queste strategie sono tutte incluse nel corso di gruppo che partirà appunto ci sarà a partire da lunedì 23 maggio due sessioni attenzione però oggi pomeriggio ci sono i dati macroeconomici americani che vedremo se aiuteranno gli operatori a capire quello che potrà fare la federal riserva giugno in ottica ovviamente tassi di interesse chiudiamo ho menzionato la sterlina ieri c'è stato il meeting della bank of england dove sono state tagliate le stime di crescita e mark carney il governatore della bank of england lui che in teoria non può schierarsi politicamente ma già lo ha fatto in passato ha dipinto uno scenario brexit catastrofico con possibile recessione svalutazione della sterlina che già è avvenuta per effetto dei timori di una possibile fuoriuscita insomma ha fatto campagna praticamente pro cameron contro una brexit attenzione perché anche la bce ha chiesto alle banche che sono sotto il suo che monitorizza controlla quelle più grandi a livello europeo come si stanno preparando ad un eventuale brexit perché il referendum c'è cioè non è qui non stiamo parlando di ipotesi il referendum 23 giugno c'è e ieri schoible tedesco corretto giusto c'è so che mi segue dalla germania mi corregge sulla pronuncia il tedesco schoible ministro delle finanze tedesco ha detto se dentro e dentro se fuori e fuori ovvero se dovesse vincere il sì per una uscita al brexit del regno unito united kingdom in inglese dal sistema economico europeo non sarà rinegoziato saranno fuori cioè dentro dentro fuori e fuori non ci sono altre vie d'uscita quindi è stato categorico come sempre schoible graficamente la sterlina ha già è già partita con la candela rossa questa qui dello scorso 4 maggio e oggi no sbagliato detto che aveva toccato un nuovo minimo il minimo è quello del 9 maggio 43 e 75 oggi si è fermato 4 pips o per 43 79 ma praticamente siamo sui minimi anche qui una falsa candela verde ai chi nasce quindi attenzione sempre come interpretare le varie candele che appaiono sui grafici usd cad invece dopo la candela rossa c'era stata subito un'accelerazione al ribasso e ieri ha ripreso un po a guadagnare posizioni sebbene attenzione il petrolio e vi invito anche a registrarvi a questa newsletter per ricevere questa video analisi perché in automatico ricevete anche quella intermarket che include indici in materie prima obbligazionario fatto vedere che oggi il petrolio ha rotto una resistenza quindi nuova nuova dimostrazione di forza del petrolio che dovrebbe tradursi in un calo di usd cad dovrebbe condizionale non sono automatiche le correlazioni quindi effettivamente dovrebbe adesso da qui prendere la strada a sud verso vedremo se arriverà o meno sul supporto 125 e 31 penso di aver parlato oramai di tutti i cambi quali più importanti le novità anche le ho dette io vi ringrazio per la cortese attenzione è venerdì quindi buon weekend appuntamento a lunedì e mi raccomando questa sera spegnete i monitor io personalmente sabato e domenica spengo la postazione questa postazione è tutta spenta dedicate del tempo a voi stessi alle persone vostre cari alle vostre famiglie amici ricaricate le energie durante il weekend arrivederci arrivederci